Novità? Sì, sì, qualcosa sì, però non posso dire niente adesso, un treno alle 15. E l'altro? Ce ne sono altri due di treni però. Ah, tienemi informato, ciao. Va bene, ciao, ciao. Daniele, ma che stai mai convenendo? Scusa, non capisco. Sono ancora qua, sono ancora qua con lui. E che ci vuole? No, ma che c'è? Un po' le spiego, è a posto, è a posto. Poi le dico come, è a posto. Stiamo lavorando su un treno di venerdì. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Il treno delle 23, delle 11? Eh, era sicuro. Ma è solo il treno delle 3? Non c'è niente. Il treno delle 4 o il treno delle 33? Il direttissimo, è il diretto quello proprio. Il treno delle 3, 33? Esatto. Il treno delle 3, 33? Il treno delle 3, 33? Se non è in un'unica soluzione, poi l'altro diretta non si fa per niente. Ma io lo mattinaio glielo dico. No, perché se non è saldato di qua, io non penso che quelli fanno. Io spero che... Siete interessati voi? Non ho capito. Siete interessati o no? Alla prossima cosa. Certo. Sì, io ho fatto tutto di cose di sempre. Sì. Tutti contenti? Tutti soddisfatti? Sì. E va bene, ma io sono la classifica. Bene, bene. È la prima volta che il Catania ha dovuto 25 quartiere salvo. Alle 13 parto. Alle 13? Alle 13. Ho fatto questa scelta. Quello delle 15 niente? No, perché ho dovuto fare una scelta, nel senso che in base alla situazione che aveva a disposizione non ce la facevo. Andiamo nei play-off, andiamo! Poi dopo ti racconto una cosa e avanti. Quattro vittorie consecutive. Alla grande. Stiamo a volando. Alla grande. E gli ho detto, guarda, c'è un discorso aperto, eh. Che bene, che ne dite? Lui mi ha dato sia Cosentino che il Presidente, mi hanno dato disponibilità in tutto. Non l'abbiamo riaffrontata, ma per me è come se fosse fatta, perché bene o male stanno mantenendo fede a tutto. Ho caricato pure altre 1500 Euro con la carta di credito. No, non li ho potuto manco giocare. Sì. Mi dispiace veramente a me. E c'è finché mi dispiace, penso a me. Comunque viva lo sport! Ma pure perché Luca il Catania ci ha pensato allo sport, ha canalizzato tutte le confritte. E' comunque troppo scassi, cazzo. Il Catania è stato il campionato più strano che una scuola possa fare. Se non ci pensiamo noi, queste cinque partite eravamo retrocessi. Sì, sì, sicuro Luca. Pronto? Amico mio. Amico mio. Senza San Michele l'azienda era bella che spacciata. Se gli volessero fare una bella statua a San Michele, mi fa piacere anche per lui perché si è rafforzato. L'organico va mantenuto perché la squadra c'è, basta mettere... Ma ormai l'ho invogliato a cambiare il geribio. Quando posso non rimuovirlo. Questo è il programma del Presidente. Ah, è d'accordo. Questa va bella. Gr져, rigna si devi s' 29... L'organico, il questo è andato per Drew G.: Questo me attrago la mia professione!